E' il punto di vista della nave storica e parliamo di musica e allora per tutti voi una rivisitazione, una vera e propria grande sorpresa in chiave musicale e storica. Vediamo. Siamo trecento, giovani e forti, andiamo dritti incontro alla morte, in un'Italia ancora ad arvenire. Siamo trecento, giovani e forti, andiamo dritti incontro alla morte, in un'Italia ancora ad arvenire. Noi andiamo a seminare il destino, nostra signora in un morte vicino, quale è il sed che c'è voglia e il vento a te, io voglio. Siamo trecento, giovani e forti, andiamo dritti incontro alla morte, in un'Italia ancora ad arvenire. Siamo trecento, giovani e forti, andiamo dritti incontro alla morte, in un'Italia ancora ad arvenire. Siamo trecento, giovani e forti, andiamo dritti incontro alla morte, in un'Italia ancora ad arvenire. Siamo trecento, giovani e forti, andiamo dritti incontro alla morte, in un'Italia ancora ad arvenire. Siamo trecento, giovani e forti.